Al momento non ci sono conseguenze sanitarie sugli allevamenti e sulla filiera agroalimentare della piana di Ottana. L'ha stabilito l'Istituto Zoo Profilatico della Sardegna sulla base degli esami necroscopici e dei testi di laboratorio eseguiti sui campioni prelevati all'interno delle aziende sottoposte a sequestro nel territorio di Noragugume e Ottana. Si tratta di un'area interessata dal fenomeno della nube nera che ha ricoperto il manto dalle pecore. Gli esiti degli esami di laboratorio hanno stabilito che i residui nell'ate sono al di sotto dei limiti di legge mentre la morte della pecora ritrovata il 27 aprile è imputtabile ad una polmonite batterica. In questo caso l'animale è stato prelevato dall'ASL3 di Nuoro nelle campagne di Noragugume ed è stato esaminato dai laboratori di anatomia patologica del Dipartimento dell'Istituto Zoo Profilatico di Nuoro. Il referto parla di tracheite, edema polmonare e diverse lesioni imputtabili ad una patologia respiratoria di origine batterica. Il secondo capovino trovato morto e consegnato il 29 aprile dal corpo forestale invece era affetto da fasciola epatica, una malattia parassitaria diffusa nella zona. Sulla base degli esami dell'Istituto Zoo Profilatico sono risultati negativi anche i test su due campioni di latte prelevati all'interno dello stesso territorio e sottoposti a controllo per la ricerca di diossine e PCB. Si tratta di sostanze derivate dalla combustione. I valori dei residui chimici riscontrati, scrive in una nota all'Istituto Zoo Profilatico, sono ben al di sotto dei limiti di legge, pertanto sono perfettamente in linea con quelli di altre aeree della Sardegna. L'Istituto precisa anche che dal momento del coinvolgimento nella vicenda ha attivato le procedure per eseguire i test il più velocemente possibile. I tempi di attesa su cui si è registrata la dura presa di posizione della col diretti inurese sono dovuti alla complessità degli esami e al rispetto di severi protocolli standard riconosciuti a livello internazionale.